non si capisce un caos dell'animazione rilasciato non è fatta poco rilasciato rilasciato sette volte pulizia di non c'è un po' dei polli ma che cazzo ho usato l'abilità non c'era tipo l'emozione scelto di lei mi ho spiegato metà della torcia a un'imagine allora giocare contro il demo mi piace perchè se non è bravo è statoissimo fallito shred ma perchè stai giocando una demo giusato è male ho dovuto puntare questo modo è tutto demo è tutto demo sul gioco il demo lo dovrei puntare a me mancano come cioè non è che l'ho fatto lungare dicendo la finestra se no sono nulla dai che cosa c'è il fungissimo non c'è neanche il caos ancora tu ma cosa vuoi dire ma cosa vuoi dire dai su voglio tomarmelo un pochino è mio è mio ma ti ricordo che ti ho salvato le chiappe non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è capito non me lo posso vedere io adoro non c'è messo non va bene c'è assurdo vabbè non va bene vabbè non va bene vabbè non va bene sono qua regalo vado faccio reggivitale si unga da un boda ancora vabbè non va bene vabbè non va bene vabbè non va bene ragazzo ha una mamma c'è un bagazzissimo questo ca qua vabbè ma stai spesso è schifo il volo vabbè eduardo eduardo se vuoi vengo avanti se vuoi vengo avanti ok posto dei vialiti 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 il Per fare un altro generatore, veloce, visto? Sì, lo stiamo ovviamente Ah ok, io pure, così è finito Sì, in the isles Sì, in the isles I'm gonna save you, don't worry I got you Ok Please, get a hit for me Don't worry, I'm gonna get you He's coming for you He's coming for you You can't see me with barbecue This far Tunnel Oh, watch out, watch out Fake Nikita Ok I don't have borrow time It's gonna be so risky Ok Ok, ehm If he comes back, you go in the locker Ok Go in the locker This one Ok, ok, ok Ok, I'm gonna make him pass through For here Where is? Where is him? He left me No? It's open Yes Come here, come here, let's go to the shack Go, 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 go There's a pallet here Go to my bats Go, go to the shack Go to the shack He's in... No, he's coming Where is the shack? Watch out, watch out Ok, ok, ok No, 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 see him No, no, see him See him, see him See him, see him See him, see him Okay Ok Ok No, what the fuck is this flashlight, bro? Noooo Oh, go away, go away, go away What? Now he will... Ok I got it Got him Yes, bro Go to the shack, go to the shack Ok This way, this way, this way Where is he? On the right, on the right, behind you On the right Sì, 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 sì. I got you, I got you, I got you. Oh, no, 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 no! Oh, fuck! We are dead. We are dead. To the basement, no. Okay. I'm a borrow. Save me and we go. Save me and we go to the cabinet, to the locker. Is your head-on ready? Yes! No! Go go go! Ok ok ok! What the fuck is that? Well um... What the fuck is that? What is that bro? What's my shit? Dude I'm hooked! What? I'm hooked, I was hooked, wha? Oh you're dead You beat me? Nooo What the fuck was that? What? What the hell have I just seen? I couldn't flatlight because I couldn't see anything right there There was my body in the fucking camera bro What the fuck was that? What? Oh my god What? 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 Is anyone... Dude what have I just seen? I think that a guy just bolted And he bolted I bolted too I don't know what is this To get to the locker Like actually No you're dead, you're dead, you're dead Oh yes! For a time! Yes! The guy looks fat, so you died Fuck off bruh Fuckin' hell Jesus Christ He see me There's no way Why did you do that? Endurance, no! I'm okay, I'm okay with this Fuck tech I'm okay with dying That was really fun Last word What the fuck was this match bro What the hell just happened? What the fuck was this match bro And we're going to save this match bro Edificio centrale Aspettiamo un doppio... Ehm... Doppio... Flash, doppio flash Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Sei... Un po' scassino ecco Andiamo a cessare il killer E' un legacy Sei 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 Appena viene doppio, doppio flash Doppio flash Sei 3 2 1 vai No, sono caduto Ce l'ha con me Ehm... Vai lo Shaq, vai lo Shaq Bravo, bravo, bravo Ah, ma c'è il perché del... Eh, vabbè Guarda Dimmi, cammi, cammi, ce la fai, ce la fai Ce la fai, ce la fai Ce la fai Oddio Ci stava la finestra davanti Non riusciva a farlo bene Per fortuna All'ultimo No, perché ha buttato il giro Shaq così Non ho poco quello slide Aspera che sto vedendo questo qua Dai, questo qua ci credo Forse no Me lo vedevo Se va verso lo Shaq, forse lo posso salvare Ok, ottimo, ottimo, ottimo Ci sono anch'io, ci sono anch'io, tipo qua Sì, sì, ho visto, questo Prendiamo a salvarlo facendo tipo un doppio flash Che sto dentro la metto Vaci tu dopo Preso, 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 preso Vaci tu, faci tu dopo Aspera No Vai, ci sono uno Aspera Vai, 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 perfetto Poi è Ce l'ha con noi? Sì Doppio flash, doppio flash Perché non c'è lo Shaq? Eh, avevo voltato Non Perché non c'è lo Shaq? Madonna mi, lo sto facendo tiltare tantissimo sto qua frate Eh, perché l'ha buttato quello detto, te l'avevo detto Vai, passa Ma che fa? Doppio flash, doppio flash Eh no Se vai dentro l'armadietto posso provarti a fare il save dall'armadietto No, aspera Madonna mi E' scarsissimo sto qua Poi ho imparato come fronteggiarlo il blight Che fa? Ma che fa? Lol Io ho comprato Vigil, però non lo trovo Se lo avessi trovato C'è la commissione, c'è la commissione, c'è la commissione Vai dentro l'armadietto Vai dentro l'armadietto Ah no, no, ha fatto il double back Double back Eh, lo pisto, lo pisto Mi sto caricando il perk Oh frate, guarda dove sono Vai verso l'armadietto, vai verso l'armadietto, vai verso l'armadietto Vai, 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 mi dovresti prendere Eh, non c'è Non c'è Chino, sì, ce l'ho, ce l'ho Aspera che c'ho, c'ho Rappo di capolio Vai verso l'armadietto, vai verso l'armadietto Ma che cazzo ho visto No, non potevo, fuck Ho fatto il locker tech, dannazione Guarda, ce l'ha con me, ma come fa? Spera che sto qua Vai, lo check, lo check Lo faccio Sto dentro l'armadietto Mamma, fai qua Eh, fallo passato, fallo passato Ah, a posto Ma entro io appena esci tu, eh Sono dentro, sono dentro l'armadietto Posso LOL Lo prende e lo porta al basement, eh? Ricorda Oh, aspetta, aspetta, aspetta Adesso, minchia, adesso lo faccio sentare Levati, 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 levati Levati, levati Levati, levati se non lo vedi No, vabbè Forello Vai, vai, in vento, vai, in vento Venti, vai, in vento Vai, in vento, in vento No, 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 fai, dai sono qua, se non fa Vai, in vento, lo check Aspetta Lo facciamo con fondo Vai ad entrare a mettere lo shak, sennò ci capiamo tutti a due Oh cazzo mi sto cagato in mano Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, c'è ancora il pallet Vieni Bella All right, we are in the dead dog's saloon Oh, it's a hag already on me Bomb Where is she coming? I think it's trapping the, I think it's trapping the 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 I have to take a hit for him Ok Let's see if there is a, oh my god he's here I'm in the shack locker, wait, wait Let him pass here, let him pass here I got this Oh, he's using, he's running the door Watch out, watch out Oh my, oh my god, I'm so lucky Watch out Boom Hehey Forr Damn What Ok, 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 just trigger, trigger the trap It's on me, it's on me I'm in the shack I'm in the shack Come here, come here, come here, please Ok, I'm coming I need you so bad Where are you? I'm in the shack I think he left me I think he left me Oh no He teleported Ok, I'm in the locker You're in the locker Ok, perfect What? 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 Oh, I got it, I got it No I don't What? What? Why? There wasn't a trap there ma quando arrivo, c'è stato! I can use my deliverance so... I think that guy is guiding you yeah does he have borrow time? no oh my god why didn't you go in the locker and why didn't you go in the below the hook either I have deliverance so I'll save you and you go in the locker, okay? okay I don't have flash like so I'm pretty fucked we go in the locker too what? go in the locker we both go in the locker okay what? do you have it? no! no I don't I don't have it I died oh no oh eeeh eeeh questo qua mi sta farmando ottimo e che palle eeeh oiii dobro via bana anora di registrazione intera butata nengesto nengesto una po no ir no no Grazie a tutti.